Monasterio è un centro cardiologico e cardiochirurgico di altissima specializzazione con due sedi l'ospedale del Cuore di Massa e l'ospedale San Cataldo di Pisa. La nostra mission è quella di integrare l'assistenza sanitaria con la ricerca e l'innovazione in un percorso che abbia sempre il paziente al centro con la sua storia clinica ma anche con la sua storia umana. Ed è proprio pensando al paziente che Monasterio partecipa al progetto europeo X-Share in cui i dati clinici sono disponibili attraverso il semplice utilizzo di un'app, l'app X-Share appunto. Con questa iniziativa l'Unione Europea mira a promuovere l'innovazione tecnologica a beneficio della salute pubblica e Monasterio è il primo ospedale italiano ad utilizzare questa funzionalità. Con un semplice clic è possibile scaricare i propri dati nel rispetto della normativa europea sulla privacy. Questo strumento, integrabile in portali clinici web ed app del paziente, rende più agevole la gestione delle informazioni sanitarie e contribuisce a rendere il paziente più consapevole. Come funziona il pulsante X-Share? Beh, è semplice e intuitivo. Quando il paziente clicca sul pulsante X-Share attiva un processo di condivisione dei propri dati in maniera sicura e questi dati diventano condivisi con altre strutture sanitarie che possono essere ospedali o ambulatori in Italia o all'estero. Questo pulsante garantisce la continuità dei servizi sanitari europei in modo sicuro ed efficiente. Ma quali dati si possono condividere con il pulsante X-Share? Con il pulsante X-Share si possono condividere una vasta gamma di informazioni. Innanzitutto l'anamnesi, cioè la storia del paziente, le ricette mediche, i piani di cura o di terapia. Si possono condividere inoltre le immagini radiologiche e i referti degli esami di laboratorio. Da tutta questa serie di informazioni deriva la possibilità di curare meglio il paziente, di avere informazioni più dettagliate che consentano un approccio più mirato intorno al paziente. Per quanto abbiamo detto, il pulsante X-Share offre vantaggi per la cura del paziente. Ma oltre a questo ha importanti potenzialità anche nell'ambito della ricerca scientifica. Perché? Perché offre una serie di dati che sono sempre controllati dal paziente e che sono verificati. E questi dati possono essere utilizzati in studi di ricerca scientifica, senza che il paziente debba recarsi in ambulatorio o in ospedale. Quindi X-Share è uno strumento prezioso nel segno del progresso tecnologico per migliorare la qualità di cura e di assistenza dei nostri pazienti.